Le straneità, la marginalità, la non appartenenza. Il concorso Lingua Madre è stato per me una tappa che si unisce alla pubblicazione del mio primo libro e di alcuni racconti pubblicati su diverse riviste letterarie, però non ha significato di riconoscimento di tipo letterario, ma ha anche un significato a livello di valori condivisi. Infatti il concorso Lingua Madre si fa portatore di valori quali l'inclusività e legati al femminismo che sento molto vicini. Quindi per me è un onore aver vinto questo concorso, proprio perché non si limita ad essere un riconoscimento di tipo letterario, ma ha un forte contenuto sociale.